ciao a tutti buonasera benvenuti a questo dopo cena live un po particolare perché stiamo bene non è successo niente di grave però diciamo che per le condizioni meteo che ci sono state a nord italia centro italia purtroppo stasera c'è stato un problema con la connessione di anna io in realtà non so neanche se anna riesce a vederci perché ci sono proprio dei problemi di neve e di ghiaccio quindi che dire iniziamo comunque sperando che anna comunque durante la connessione riesca a raggiungerci in ogni caso ha chiesto di salutare tutti anche a nome suo perché insomma questo progetto di vieni come punto dog di essere cane centro cinofilo quindi è un progetto che ha senso fatto insieme però stasera e dovremmo fare necessariamente così sperando che anna riesca a collegarsi buonasera intanto a chi è riuscito a connettersi anche in questa sera di dell'otto dicembre sera di festa quindi che dire adesso ringraziamo come sempre le persone che ci hanno inviato le foto per la sigla nostra iniziale e potete continuare ad inviarle le foto preferibilmente all'indirizzo vienicome.dog.com se poi doveste avere delle difficoltà con gli allegati potete tranquillamente inviarle anche al nostro numero whatsapp che vedete qui scritto stasera è una serata molto speciale perché a parte il fatto che anna speriamo che si connetta con noi che riesca a farlo però c'è un ospite veramente tanto speciale io e anna abbiamo pensato a questa diretta già da tanti mesi e questo ospite ci ha dato disponibilità con grande grande generosità già da quest'estate perché ovviamente è tanto impegnato come gli altri nostri ospiti ed è stato veramente tanto carino a voler assecondare il nostro progetto e stasera essere con noi per parlarci di disabilità e relazione sto parlando di lucas canavacca che tra breve si collegherà qui sul dopo cena live benissimo che dire adesso mandiamo la sigla ripeto stranissimo senza anna però proviamo a fare così sinché lei non riesce a collegarsi adesso vi mando la sigla così potete vedere anche le foto nuove che abbiamo aggiunto buona visione benissimo eccoci di nuovo qua e intanto mentre mandavamo la sigla si è collegato anche Luca quindi gli diamo il benvenuto eccolo ciao Luca buonasera Michela buonasera a tutti grazie grazie dell'invito e mi dispiace avervi fatto aspettare così tanto no no vabbè è stato per noi già tantissimo veramente sapendo quanto sei impegnato tu con i tuoi progetti e con l'università insomma è stato già tantissimo per noi averti soprattutto averti in una sera così speciale come un giorno di festa che sicuramente con questa situazione nazionale che viviamo tante persone sono a casa quindi niente di più piacevole che vedere Luca Scanavacca che ci parla stasera di cose importanti allora Luca sicuramente tanti di voi già lo conoscono perché sono dei progetti che sono veramente importanti e veramente tanto conosciuti a livello nazionale però per chi di voi ancora non lo conoscesse ci tengo tantissimo anche a nome di Anna a presentarvelo Luca è un consulente zoo antropologico ed è fondatore del progetto semplicemente sordo che è veramente tanto noto anche del progetto fattoria dei semplici e col metodo mind extension che è lo stesso di recente se ne è tanto tanto parlato Luca costruisce programmi di educazione e di riabilitazione sia con cani normodottati che con cani che sono diversamente abili quindi cani sordi cecchi e sordo cecchi e da più o meno otto anni continua delle collaborazioni con delle università italiane tenendo corsi di informazione e consulenze e direttamente invece col metodo mind extension ha iniziato anche una collaborazione proprio con il ministero della salute adesso poi ci racconterà e lavora con cani cavalli con asini ed è autore del libro molto noto semplicemente sordo e anche di un altro libro che si chiama il viaggio del mago e poi insomma ci sono anche delle novità di cui ci parlerà lui stesso magari più tardi nel corso della serata quindi Luca sono due progetti paralleli molto importanti molto noti semplicemente sordo e la fattoria dei semplici ci vuoi raccontare un po di questi due progetti e del metodo mind extension? Sì sono due progetti che si integrano sostanzialmente è un po' un figlio che cresce semplicemente sordo e diventa qualcosa di più grande di diverso aperto a a fruitori di maggiori il primo semplicemente sordo è stato sono state le basi sulle quali io ho costruito quello che il concetto il mio concetto di diversità e di percezione dove in qualche modo le stravaganze della logica mi hanno portato a pensare che la diversità era qualcosa da approfondire da conoscere da abbracciare anche in umana perché era il punto poteva essere ed è oggi secondo me il punto di partenza per conoscere l'altro nel concetto di diversità ci sta la mancanza di giudizio ci dovrebbe stare la mancanza di giudizio e voglia desiderio piacere di affrontare quello che è il mondo sensoriale percettivo dell'altro e poi il valore aggiunto di tutte quelle persone che hanno la possibilità di vivere o di lavorare con con gli animali no? volgarmente viene chiamato empatia a volte anche troppo facilmente l'empatia non è una cosa così semplice da sviluppare perché prevede un percorso personale ognuno di noi deve mettersi in gioco su quella che è la sua percezione il suo sentito il suo vissuto e mi è capitato per esempio di scoprire che persone veramente empatiche volevano lavorare con il loro cane e risultavano essere molto più empatiche quando lavoravano con un cavallo o con un asino aprendo poi quel canale si sarebbero comunque rivolti al loro cane in modo diverso in quest'ottica ho deciso di costruire quella che è la fattoria dei semplici con grazie a mia moglie perché poi i meriti delle persone sono sempre delle donne almeno i meriti degli uomini molto spesso dipendono dalle donne bisogna riconoscerlo e grazie a mia moglie abbiamo preso questo posto l'abbiamo organizzato l'abbiamo riempito di animali in modo da non sovraccaricarlo ma da dare a tutti delle proporzioni di spazio e di movimento corrette e da qui siamo partiti con quello che oggi è il progetto fattoria dei semplici metodo mind extension metodo mind extension perché mind extension sostanzialmente mente estesa si è cercato per molti anni di capire se il potenziale dell'essere umano a livello di mente fosse quello riconosciuto scientificamente e dall'altra parte si è lavorato parallelamente per cercare di comprendere dove potessimo andare con questo enorme potenziale e perché e se veramente lo stiamo utilizzando tutto nel fare questo avevo bisogno di uno spazio che fosse uno spazio identitario e la cosa buffa è che le persone quando vengono qua mi dicono fuori c'è spazio ma io dentro di me ho trovato molto più spazio vuol dire che ho fatto un buon lavoro vuol dire che hai capito il senso del progetto e hai capito il senso del lavoro che è stato fatto gli animali sono un veicolo un mezzo un tramite per tornare a sentirsi per imparare a sentirsi parlo del gatto parlo del cane del cavallo dell'asino non ci sono differenze legate all'ettogramma di specie ci sono più differenze quindi è vero che un cavallo è un erbivoro e il cane è un predatore carnivoro ma non sono queste le vere peculiarità dell'animale a mio parere non è questo che fa la differenza e non è neanche il peso o le proporzioni è il fatto che l'animale può essere evocativo per ognuno di noi di un determinato aspetto del nostro carattere in questo caso sarebbe bene entrare in contatto con quell'animale prima ancora di entrare in contatto con altri ora sembra una cosa quasi amanica o olistica eccetera eccetera in verità ci sono numerose ricerche che dimostrano questo tutte quelle ricerche che parlano delle onde teta che parlano dell'attività del cervello eccetera eccetera non sto qua a entrare in tecnicismi che fra l'altro non mi appartengono neanche però se uno ha voglia di mettersi in gioco le possibilità ci sono e soprattutto ci sono anche le conoscenze a livello scientifico per farlo fortunatamente sostanzialmente i due progetti sono uno il seguito dell'altra un bambino io lo consiglio è un bambino che cresce in qualche modo è diventato la città un bambino che cresce diventa inevitabilmente qualcosa di diverso da buon genitore deve essere in grado ad un certo punto di lasciarlo andare fare in modo che faccia il suo percorso tu hai fatto quello che devi fare e adesso diciamo così di vedere questo progetto che cresce che cambia anche forma e assume una forma nuova con persone nuove con collaboratori nuovi eccetera eccetera sono veramente orgoglioso di questa cosa sono dei grandissimi progetti ma la curiosità risale aspetta però c'è una cosa importantissima che ancora dobbiamo mandare che è questa ci vuoi raccontare un attimo di questa immagine di questo libro il viaggio del mago allora la copertina credo che sia già abbastanza evocativa non si vede solo un animale ma si vede la stella a cinque punte che sostanzialmente è un pentagramma forma un pentagramma se uniamo i punti e vi è all'interno vi è l'io la coscienza, la persona l'identità dell'essere umano che ha bisogno che ci piaccia o no di mandare in definizione i vari aspetti il polo sociale, il polo affettivo il polo metafisico il polo fisico e il polo razionale per far sì che la persona sia veramente felice diciamo così la ricerca un pochettino la ricerca della felicità per farlo la natura secondo me madre natura ci ha permesso attraverso gli animali di dialogare con noi stessi e ci sono animali che sono evocativi di quel polo per esempio nel polo sociale noi abbiamo il cavallo che a livello sociale è un animale che potrebbe darci delle regole importantissime è che molto spesso per ignoranza nostra queste cose non le conosciamo e tendiamo ad andare verso un percorso di addestramento quindi soggiogando la volontà dell'altro senza tenere in considerazione il sentito cioè vivere il cavallo per quello che è vivere il cavallo per quello che è vuol dire viverlo in uno spazio aperto non dico in natura ma viverlo in uno spazio aperto la cosa buffa per esempio che dalla parte sempre nella copertina dalla parte del cavallo sotto c'è la testa del cane gli indiani d'America chiamavano il cavallo grande cane cioè avevano trovato una similitudine nel loro linguaggio la traduzione era grande cane avevano trovato una similitudine fra questi due animali il cane rappresenta per esempio il polo metafisico proiezioni ambizioni aspettative desideri se noi pensiamo quando adottiamo un cane che sia cucciolo che sia adulto abbiamo una serie di aspettative che riversiamo sull'altro sono aspettative sane se entriamo in contatto con queste se le riconosciamo e riusciamo in qualche modo a identificarle come nostre aspettative ma questo avviene per dire anche quando chiediamo a una donna di sposarci o quando sappiamo di diventare papà e diventeremo che stiamo aspettando un figlio di venire un papà cioè queste aspettative fanno parte della vita sono il sale della vita molto spesso invece cadiamo sotto queste aspettative perché diventano la parte brutta proiezioni io credevo che ma non è successo ora siccome i miracoli non ne fa nessuno in verità la natura uno l'ha fatto metterci al nostro fianco un cane colui che guarda dentro di noi e ci può osservare meglio di chiunque altro a volte sarebbe importante dedicare nella relazione con il cane non solo una relazione di aiuto dove quando noi rientriamo a casa arrabbiati il cane ci corre incontro saltandoci addosso cercando velocemente di farci cambiare quell'umore che aveva percepito ancora prima che infilassimo le chiavi nella toppa della porta ma dovremmo anche dedicarci dei momenti esclusivi proprio a livello di terapia dove lo scambio non ha nessuna finalità molto spesso ancora troppo spesso sia nell'equitazione che in cinofilia si trova il cane che serve a qualcosa che deve raggiungere uno scopo io penso invece che il cane non debba raggiungere nessuno scopo se non quello che ha già raggiunto tra 15.000 e 35.000 anni fa quello della domesticazione dove seguiva l'uomo e la sua stessa presenza era già utile all'uomo come forma di conoscenza quindi l'indito è quello di dire avete un cane in casa beh dedicatevi a quel cane ma dedicatevi non pensando sempre e solo ai suoi bisogni se no diventa un surrogato diventa come andare a lavare la macchina il sabato o innaffiare le piante sono una cosa completamente diversa dedicatevi a voi passando dal cane cioè prendetevi il cane sedetevi sul divano tiratevelo nel letto sedetevi per terra come preferite per carità e in qualche modo cercate di sentirvi passando da quello che è il contatto con il cane senza nessun tipo di aspettativa o di bisogno che debba essere appagato perché quando questo fa parte entra a far parte della relazione diventa inevitabilmente una relazione di fruizione dove qualcuno deve dare e qualcuno riceve senza condizione in questa fase quando noi non riceviamo più quello che ci aspettavamo quello che succede è che il cane ci ha in qualche modo deluso io non dico che il cane non debba essere educato io dico che il cane deve essere educato nella misura in cui noi riteniamo sia opportuno lui vivere la nostra società non oltremisura così come deve succedere per esempio con i bambini molto spesso io intervengo con bambini su sistemi che familiari dove il bambino è sovraccaricato di impegni il martedì il tennis il giovedì il equitazione e poi c'è il calcio e io la prima domanda che faccio ai genitori è ma voi glielo avete mai chiesto se tutta sta roba lui la voleva fare e loro rimangono lì come dire ma io penso di fare il suo bene sì vero io credo nella buona fede delle persone soprattutto di un papà o di una mamma verso il loro figlio ma credo anche che ci sia poca pazienza e poca capacità di fermarsi di aspettare di ascoltare prima ancora di decidere il cane come il bambino molto spesso non viene neanche chiamato in causa nelle decisioni si decide per lui perché è troppo piccolo o perché non parla e allora noi ci troviamo dei cani a fare delle cose che non gliene fregherebbe assolutamente niente di fare e da parte mia quando osservo queste cose non ti nego che c'è del dolore della frustrazione perché dico ma cavoli lo rendiamo l'abbiamo reso finalmente capace cioè abbiamo scoperto che è capace di emozioni che ha una forma di intelligenza diversa andiamo alla scoperta di questa forma di intelligenza perché non ci appartiene del tutto ed è fantastico come aprire un libro che non abbiamo mai letto è fantastico andare alla scoperta di queste forme di intelligenza perché potrebbero anche migliorare la nostra percezione del mondo andare in giro con un cane ma anche andare a passeggio per i campi con un cavallo io non lo monto il mio cavallo ma quando mi capita se mi capita ci vado a passeggio con il cavallo è stupendo scoprire delle cose che io passando di lì dieci volte non avevo mai visto e mi do io dell'asino dell'ignorante nel senso che colui che ignora una percezione che è differente questo è il vero fascino secondo me della vita con l'animale a patto che noi riusciamo a metterci in gioco a patto che noi vogliamo metterci in gioco perché chiusi nei nostri schemi quotidiani molto spesso il cane è lì che bussa che chiede e noi non capiamo quale porta vorrebbe aprire in verità la porta che vorrebbe aprire è la porta della nostra coscienza della nostra percezione della nostra anima chiamiamola chiamiamola come vogliamo la nostra autenticità tante volte di quello che siamo noi realmente che non sappiamo neanche noi è quello che tirano fuori ma infatti dalle tue parole è la base di una relazione vera ci sono tante persone purtroppo che hanno il cane però appunto come per i bambini faccio un giorno la giriti un giorno li porto a fare questa attività l'altro giorno li porto a fare l'attività spesso questa voglia di riempire la vita di cose di attività i bambini non riescono più a fare i bambini non riescono ad annoiarsi il cane no dorme troppo magari è depresso facciamo questo questo e quell'altro ma anche nelle interazioni più brevi più piccole la cosa che a me sorprende sempre ma penso sorprende un po' tutti è andare sempre di petto quindi andare in velocità e dire è vero però non c'è un feedback allora devo proporre 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 invece poi se tu ti fermi all'inizio qualcuno si imbarazza non sanno cosa fare perché sono abituati ad andare con un certo ritmo però se tu impari a fermarti ad osservare come dici tu mi prendo il cane non è che deve fare attività vado e faccio qualcosa col mio cane un divano una passeggiata buttarmi in un prato e guardare il cielo mentre lui scava cioè quello inizia a permettere di avere una sensazione c'è un fattore c'è un fattore identitario mi capita di lavorare con persone che magari hanno avuto una carriera professionale importante li ha assorbiti completamente la carriera professionale e poi si trovano a smettere perché vanno in pensione perché magari a 50 60 anni riescono ad andare in pensione e sembra che non abbiano più tempo da dedicarsi allora vengono qua per capire se possono essere d'aiuto nel fare le cose la cosa buffa è che vengono qua senza un'identità e quello che loro trovano dentro di loro è uno spazio enorme perché non si presentano più come l'ingegnere piuttosto che il dottore piuttosto che l'amministratore si presentano con nome e cognome e già da lì tu vedi l'imbarazzo della persona che dice ma adesso che non sono più quello che ero prima professionalmente che cosa sono diventato e qui per esempio l'asino per tornare al discorso di prima è molto d'aiuto sul sentire si pensa sempre che l'asino sia ispido che l'asino sia duro quando vai a contatto con un asino molto spesso ti accorgi della morbidezza è come il pelo del gatto ti accorgi che ha una criniera forte robusta anche se corta ti accorgi della sua mimica facciale abbiamo due occhi e due orecchie molto grandi presentate su un muso relativamente piccolo a livello di proporzioni più di una persona mi ha detto quegli occhi sembra che mi scruttino dentro probabilmente sì gli hai permesso di entrare e ti stanno in qualche modo scruttando dentro e questo è il valore degli animali che noi abbiamo qua valore che rimane integro se noi li trattiamo secondo quella che è la loro natura quindi non sono animali addestrati non sono animali che hanno una condizione di preparazione tale per cui eseguono a comando sono animali che sono i veri terapeuti cioè loro capiscono la persona e agiscono di conseguenza il mediatore l'operatore diciamo così il consulente zooantropologico è solo la persona che crea il set perché avvenga la magia ed è per questo che poi si parla di mago sostanzialmente non perché ci sia quale forma strana di magia ma semplicemente perché la magia avviene fra l'animale e il fruitore e ripeto non c'è nel pentagramma vedete anche le capre le occhi il coniglio ma potrebbe esserci il gatto e non c'è un animale che ha più valore di altri ci sono animali domestici sì per carità il cane e il gatto ci sono animali che in casa non possono stare il cavallo l'oca o per lo meno soprattutto l'oca e le capre se dovessero stare in casa ci sono delle serie controindicazioni igieniche ok ma non hanno un valore differente possono raggiungere lo stesso valore affettivo che può raggiungere il cane che può raggiungere il cavallo che può raggiungere un gatto eccetera eccetera sono relazioni differenti ognuno riesce a instaurare una relazione esclusiva con un tipo differente di animale ed è questo secondo me il valore è una meraviglia quindi aspetta eccoci di nuovo qua sì è veramente lì che risiede la base di tutto secondo me cercare di non di viverli per quello che sono realmente come dici tu rispettando la loro natura non scatolandoli all'interno di concetti che sono nostri e basta il tanto giusto è quello che ci permette di goderci all'interno della società diciamo per le convenzioni che ci sono però poi dopo quello bisogna trovare veramente il giusto limite il giusto compromesso se no si perde tanta roba tieni presente un'altra cosa scusa se ti interrompo molto spesso noi riportiamo le nostre frustrazioni nella relazione e questo lo dimostra a livello di linguaggio il fatto che molte patologie a livello di veterinario siano state copiate nei termini da quella inumana è un transfer molto veloce questo cioè quando per parlare per esempio di cani sorghi o ciechi quando noi andiamo a prendere adottiamo un cane cieco pensiamo che la sua forma di ciecità sia uguale a quella inumana quindi nella nostra testa si materializza molto spesso l'idea del vecchietto col bastone che avanza con gli occhiali scuri che avanza toccando qua e là per cercare di capire dove sono gli ostacoli dove è il limite del marciapiede se ci sono dei pali eccetera eccetera la prima parola che ci viene in mente è poverino la prima nel 99% dei casi la prima è poverino questa cosa te la dico perché l'ho provata al mare con i miei figli e lui il Leonardo in particolare il mezzano quando ho sentito che ha detto poverino gli ho detto vai a conoscere quella persona allora l'ho mandato e lui che ha un chiacchierone come papà molto probabilmente è andato e si è presentato a questa persona è rimasto stupito sul marciapiede ripeto al mare è rimasto stupito del fatto che questa persona il non vedente gli ponesse la mano cercando di di stringergli la mano da lì lui ha iniziato a cambiare quella che è la sua idea di diversità e la cosa bella che ha fatto lo dico con orgoglio perché è mio figlio è che si è messo lui al centro della diversità cioè la domanda che ci dovremmo fare è sempre la stessa diverso da chi se noi ragioniamo su un concetto antropocentrico allora diremmo diverso da noi ma in questo processo sbaglieremmo alla grande perché noi non siamo perfetti noi parlo come genere umano partendo invece da questo presupposto potremmo mirare per assurrezione passando da un concetto di percezione legato alle differenze ti faccio un esempio banalissimo quante volte si litiga perché non ci si capisce sempre io volevo dire una cosa tu l'hai detto un altro e finiamo a litigare ebbè quello è il mio percepito quello è il mio percepito che arriva tu volevi offendermi tu mi hai giudicato tu mi hai fatto eccetera eccetera no? quella è solo percezione perché alla fine no? quando ci si chiarisce si comprende anche l'intento dell'altro e si comprende che l'altro non voleva ferirmi solo che noi partiamo con questo esploat come una miccia sull'idea del oddio mi si è chiusa la vena del cervello non ho più ascoltato il resto del discorso e si litiga molto spesso quando se mi capita di sbagliare in macchina una cosa che ho imparato per non farmi avvelenare il sangue una cosa che faccio quando mi suonano mi danno del cornuto o altre parole io abbasso il finestrino proprio con faccia seria gli dico scusami scusami tanto le persone rimangono stupite non sono abituate all'idea di contatto all'idea di dolcezza ci siamo disabituati a questo o arriviamo come un treno con la volgarità con l'offesa con energia oppure sembra che non arriviamo agli altri in verità nel momento in cui noi andiamo a contatto con l'animale soprattutto l'animale diversamente abile diciamo così noi dobbiamo arrivare svuotati di tutta questa energia altrimenti si canalizza nel cane e quello che succede è avere una pallina impazzita alla quale noi abbiamo dato forza senza dare una direzione e lì ci troviamo in una relazione che rischia di diventare complicata ma che complicata non lo sarebbe mai stata se ci fossimo avvicinati senza un atto pietistico senza troppa volontà di fare eccetera eccetera la percezione dell'altro ci obbliga a rallentare il nostro pensiero invece noi in questo è fare fare produrre fare fare produrre eccetera eccetera quando noi riusciamo a rallentare il nostro pensiero riusciamo a fermarci e osservare l'altro riusciamo anche a capire che per quanto possa sembrare diverso il mondo dell'altro perché è cieco perché è sordo perché è sordo cieco ma mi viene in mente anche baluca è tripode ha tre gambe oltre che essere sordo è anche tripode se noi riusciamo a rallentare vediamo che la sua percezione la sua realtà si integra con la nostra e allora lì possiamo aprire un dialogo a livello comunicativo che diventa importante diventa importante perché tiene in considerazione non solo quelli che noi pensiamo essere i bisogni dell'altro ma le richieste che l'altro fa invece noi abbiamo un'idea di quelli che sono i bisogni del cane di quello che è l'elettogramma di specie e partiamo come un treno a comprargli cose cambiare il mangiare fare controlli e vi dico che su un cane che ha un handicap di questo tipo si possono fare un miliardo e mezzo di controlli nella speranza che ritorni a guadagnare la vista nella speranza che possa sentire qualcosa da un orecchio dall'altro nella speranza di trovare un artificio per riportarlo a sentire eccetera eccetera e nel 90% dei casi sono la paura di affrontare la diversità ma quella paura appartiene a noi non appartiene a loro anche perché non consideriamo mai che magari sono nati così e la loro realtà è così da sempre quindi loro vivono un mondo fatto di buio o un mondo fatto di silenzi e non li disturba infatti Luca poi stanno già arrivando dei commenti molto interessanti prima di andare avanti li mandiamo su però vorrei condividere con te con le persone che ci stanno seguendo una cosa molto carina io ho seguito la tua diretta fatta con Sticani che sono due ragazzi veramente molto in gamba che stanno facendo un bellissimo lavoro e c'è la ragazza di Sticani ora non ricordo il nome ma è molto carina che penso che abbia un cane disabile dall'intervista mi è sembrato di aver capito questo mi ricordo bene lei addirittura quando l'ha adottato le prime notti dormiva in giardino con il cane l'ho sentito è stato incredibile è stato incredibile bellissima quell'intervista veramente quella a Perispring mi pare che si chiamino veramente interessante e ha detto una cosa molto bella quando vedono lei il suo cane per strada per me non diciamo il succo è questo molte persone dicono ah poverino la frase che hai detto tu e lei ha risposto in una maniera carinissima ha detto con idonia cercando di guidarli alla potenzialità che invece c'è nella vita nel mondo di quel cane comunque lei dice sì ma lui non lo sa di essere sordo cieco se è bene così non diteglielo è stata molto fortile molto intelligente mi è piaciuta veramente tanto perché effettivamente alla fine se tu vai a scoprire il mondo di un cane che ha questi problemi alla fine lui ha la sua percezione si è adattato e magari non ha niente di meno rispetto a tanti altri cani comunque assolutamente sì adesso poi guarda c'è tanta curiosità ovviamente rispetto a come tu hai iniziato tutto questo tutto questo percorso però prima di tanti anni fa esatto è ovviamente tutto collegato a semplicemente sordo però prima di andare avanti con questa curiosità mia penso anche di chi ci segue volevo mandare un po' di commenti che sono allora ci ha scritto sicuramente ci ha scritto Noemi che scrive se vivi con dei levrieri ti trovi per forza nel mondo descritto da voi forse perché sono cani primordiali loro vivono con te ti fanno vivere nel loro mondo totalmente verissimo verissimo nel senso che un cane primordiale un cane primitivo ha ancora una vena molto forte una vena naturale che trascina l'uomo in un'esperienza sensoriale che abitualmente non si fa dobbiamo tenere in considerazione non voglio entrare adesso nel panorama delle razze però dobbiamo tenere in considerazione che molte razze sono state costruite uso il termine nonostante sia forte non a caso sono state costruite dall'uomo sono state costruite dall'uomo per l'uomo come se fosse un surrogato di un bisogno che l'uomo aveva e se andiamo a vedere il cane è stato preso è stato ridotto in potenzialità ok in questa riduzione in potenzialità l'uomo ha avuto un atteggiamento fortemente egoistico ce la possiamo raccontare come vogliamo ma è stato egoista nel selezionare determinati soggetti rispetto che altri possiamo parlare di altruismo per fare un esempio quando parliamo della nascita del border collie che era diverso da quello che conosciamo noi perché molte razze nel 1800 erano diverse da quelle che conosciamo noi oggi e che vediamo noi oggi in quel caso si è cercato di selezionare un cane da lavoro che fosse attivo nel rapporto con l'uomo e poteva venire fuori rosso nero giallo blu poco interessava si è andati a lavorare sulla componente caratteriale che poi è quella che entra nella relazione con l'uomo perché se parliamo di lavoro e parliamo di addestrabilità sono le due componenti sostanzialmente che entrano in una parte in una fetta della relazione con l'uomo poi si è voluto esagerare ancora una volta e ha preso anche quella razza in molti casi in molti allevamenti ha preso una deriva fortunatamente e per quanto siano stati maltrattati e per quanto determinate situazioni in Spagna sono note a tutti purtroppo il levriero è riuscito a mantenere quel suo modo di essere primitivo primordiale in questo c'è la peculiarità e la caratteristica è una razza che per esempio io non sarei in grado di adottare per il mio non il mio stile di vita però per le mie componenti caratteriali ammiro il levriero e ammiro ancora di più quelle persone che sono in grado di mettersi in gioco con un cane o con una serie perché di solito ne prendono anche due o tre di cani di questa razza c'è profonda ammirazione da parte mia c'è profonda ammirazione e ogni volta che ho la possibilità cerco di andare a dialogare con queste persone a conoscerle perché mi piacerebbe conoscere aspetti del loro carattere che in me sono assenti e potrebbero servire a crescere insomma è vero che c'è la barba bianca e pochi capelli però non si finisce mai di imparare di crescere e in questo mi capita con tante razze differenti cioè il fascino sta non solo nel cane ma sta anche in colui o colei che sceglie di prendere quella determinata razza e la vive come tale certo abbiamo poi un altro commento lo mando al volo poi andiamo se no andiamo poi un po' lunghi non ti no io non ho vai tranquillo è un piacere anche per noi allora Michela vabbè lo mando perché ci dice che ha perso il suo cane tre settimane fa e ovviamente è una cosa che insomma ci tocca profondamente perché non è una cosa facile e quello che mi manca di più sono i suoi rumori la coda che sbatte il rumore delle zampe il boffonchio quando aveva fame tutte cose che erano diventate il sottofondo e ora creano un grande silenzio molto ma molto di più del seduto terra resta non c'è paragone quindi ovviamente sempre per tornare permettono di spendere solo due parole di fronte a una persona che sta vivendo la mancanza del suo compagno anche qui il cane vive meno di noi non c'è possibilità ma anche il cavallo anche la capra anche l'oca o il gatto che siano in casa o che siano fuori casa vivono meno di noi sembra quasi un brutto destino il nostro in verità in qualche modo è ancora una volta un insegnamento in questa fase magari Michela è un po' un distruttore nel senso che si sta estruggendo il dolore la perdita la mancanza e quant'altro però sono sicuro e faccio tanti auguri a Michela che una volta che questo avrà lasciato spazio alla lucidità del fatto che è un aspetto naturale della vita lei troverà il bello in quella che è stata la relazione non so se Michela tornerà a prendere un altro cane simile cambierà razza e quant'altro ritengo che comunque di fronte alla morte di un compagno di vita come è il cane ma come può essere anche il gatto di sia un profondo insegnamento quel profondo insegnamento noi lo dobbiamo trarre proprio dal fatto che biologicamente noi siamo destinati a durare molto di più di molte cose che ci stanno intorno e di molti animali che ci stanno intorno quindi il pensiero che io voglio dedicare a Michela è quello di dire vivi il tuo dolore rimani nel tuo dolore nel tuo silenzio per un tempo lecito per il tempo che ritieni ma poi cerca come ho fatto io per esempio con Tabata e in tutta la mia esperienza di tornare indietro e in qualche modo di rivivere tutti gli aspetti belli della vita con lei l'ho fatto con Tabata mi capita di farlo per esempio nella relazione con mia moglie eccetera eccetera perché se sei arrivato fino lì l'importante è sapere come ci sei arrivato e quanto di bello hai seminato senza la mancanza è logico mi viene in mente la copertina di semplicemente sordo se posso dilungarmi due secondi Tabata era un cane sordo con una CEA quindi una malattia degenerativa degli occhi ad uno stadio quando l'ho presa io a uno stadio iniziale ma negli anni è andata sempre peggiorando tieni presente che quella parte della fotografia è la parte dove lei ancora aveva l'occhietto dall'altra parte aveva subito negli anni un'inucleazione quindi un'asportazione purtroppo purtroppo degli occhi conosciuto all'istituto zooprofilattico di Teramo Tabata è stato quel cane che randaggio prima di consegnarsi all'istituto è tornato sui monti dietro Teramo a recuperare sua sorella e si è consegnata insieme alla sorella all'istituto davanti al cancello dell'istituto questo raccontato da un collega che lavorava in istituto le avevano chiamate Paz e Matt perché erano veramente fuori di testa non saprei come altro definirle due cani fuori di testa aveva morsicato più di un operatore era difficile avvicinarsi eccetera eccetera ti dico per come ero fatto ormai 17-18 anni fa sembrava una chiamata per me l'annunciazione cioè quel cane viene a casa con me non era una sfida attenzione era qualcosa di diverso anch'io ero in cambiamento anch'io ero sempre in giro per l'Italia eccetera eccetera Tabata rappresentava la volontà di costruire una famiglia e qui torniamo a quel pollo metafisico di cui dicevo prima cioè dentro di me dicevo se prendo questo cane ho bisogno di staccare un attimo la spina e di dedicarmi a questo cane perché lei ha bisogno di aiuto nel conoscermi nel conoscere la mia realtà e io ho bisogno di pazienza e osservazione per conoscere la sua ho tirato il freno a mano mi sono fermato e non nego e ne vado orgoglioso che insieme a Tabata ho costruito una famiglia perché lei ha visto tutti i miei figli nascere e crescere abbiamo fatto tante cose ci siamo cimentati nello sport per poi dichiararci diversamente abili e quindi essere squalificati però cominciare a proporre l'idea che non devono esistere almeno in cinofilia le paraolimpiadi tutti i cani devono poter gareggiare insieme e da lì è stato perché molte federazioni hanno aperto anche a cani diversamente abili competizioni che erano fino a quel momento riservate a cani normodotati poi negli anni siamo invecchiati tutti e due lei è invecchiata più di me avevo fatto due promesse a Tabata lei c'è sempre stata nella mia vita ha curato i miei figli si metteva sotto la carrozzina e faceva la guardia quando Valentina lasciava Leonardo nel passeggino nella carrozzina e non faceva avvicinare più di tanto le persone o correva da Valentina ad abbaiare ma accompagnava Valentina negli ultimi mesi quando aveva questo pancione enorme e faceva fatica a camminare e faceva spostare tutti con il suo abbaio in modo che Valentina potesse passare quindi tante esperienze di vita condivise con il cane e uno dice ma tu sei pazzo potevi condividerle con tua moglie potevi condividerle con i figli no che non non è che non l'abbia fatto l'ho fatto anche con il cane cioè l'ho fatto con quelle che erano le mie sensazioni con quelle che erano i miei progetti con quelle che erano le mie ambizioni e prima di morire per tornare appunto alla domanda di prima io era purtroppo era è morta tre giorni due giorni dopo Natale il 27 la mattina mi sono svegliato e mi sono reso conto che c'era qualcosa che non andava la mattina del 24 ora di sera l'ho portata in ambulatorio a fare un controllo la dottoressa che ci conosceva molto bene è un professionista che io rispetto con la quale ho un bellissimo rapporto mi ha detto Luca non metterei neanche mano lasciamo le cose così come stanno tornando a casa prima di scendere dall'auto e attraversare il giardino l'ho guardato e ho detto mi fai una promessa mi regali questo Natale insieme lei è stata con noi il giorno di Natale ha festeggiato era all'intorno era sotto il tavolo giocava con i bambini il 26 se l'è preso come giornata sua il 27 si è spenta per sempre ora è chiaro è raccontato anche nel libro è chiaro è una storia è una fantasia mia diciamo così va bene quella fantasia serve ci serve non dobbiamo aver paura di sperare di desiderare di credere eccetera eccetera è questo quello che ci limita nella relazione col cane a volte andiamo in un surplus di conoscenza dimenticandoci del cuore diciamo così invece dovremmo allenare tutti e due gli aspetti la conoscenza dell'altro ma anche una conoscenza fatta di emozioni la difficoltà è che le emozioni in qualche modo ci spaventano perché siamo soprattutto in questo periodo di covid siamo abbastanza chiusi siamo abbastanza isolati ci tendiamo a proteggerci da tutto e in verità la prima cosa che facciamo è proteggerci da noi stessi il coraggio purtroppo è una cosa che non si compra al supermercato il cane ne dimostra tantissimo nei nostri confronti io ho visto amici tirarsi indietro non ho mai visto il mio cane tirarsi indietro né quello né Tabata né Balou quello di adesso io ho visto amici ritrattare non ho mai visto il mio cane ritrattare su una posizione ho visto amici purtroppo in qualche modo non essere amici ok prendere quello che gli serviva e poi andarsene il cane è rimasto lì questo è il vero insegnamento del polo metafisico cioè i valori ciò che non è tangibile non è misurabile non è soppesabile il cane li porta con sé come impersonificazione di se stesso se noi li riduciamo a una futile fruizione ci perdiamo la vera essenza del cane e qui parlo del cane in generale non solo del cane sordo e del cane cieco è chiaro che il cane sordo e il cane cieco ci mettono ulteriormente di fronte a una differenza a una difficoltà ma non ci deve spaventare neanche questa Luca ci sono tanti commenti perché ciò che stai raccontando anche io ho voluto lasciare tutto il tempo anche questa immagine che è a metà insomma Tabata e te insomma ci hai spiegato sicuramente anche di questa scelta e qui c'è un commento di Michela che appunto la persona che ha perso il suo cane tre settimane fa che dice grazie davvero la cucciola arrivata poco prima che se ne andasse anni si chiama Tabata quindi bello bello il caso doveva essere qua stasera Michela non sono coincidenti insomma poi qua continuano dei commenti ce ne sono tanti poi magari non riusciremo a mandarli tutto però tutti quanti però c'è Fiorella che dice Benny c'è Cacca e Sharon Sorda bisogna esserci insieme a capirli capire come loro comunicano chi al buio chi nel silenzio poi ce ne sono tantissimi altri ce n'è uno che è molto carino di Alessandra poi purtroppo non avremo il tempo di mandarli tutti però possiamo andare a ritornare anche il mio amico Max Cibelli l'ho visto adesso ci conosciamo Max ha fatto una diretta bellissima con noi infatti ti saluta anche lui grazie Max è stato nostro ospite io e di Anna qualche settimana fa e abbiamo parlato con lui di Canile era tanto attesa anche quella perché Anna comunque Davide ho lavorato tanto tempo a Parma in Canile hanno lasciato lì il loro cuore e quindi è stato molto importante per noi avere questa diretta con Max che ringrazio ancora per la sua disponibilità e qua c'è un commento molto carino di Alessandra che dice quando dicono al mio cane sordo poverino io rispondo sempre che fa gli stessi danni di un cane normale questo riporta veramente tanto è vero è vero cioè non c'è niente di niente di soprattutto nei primi giorni non è una luna di miele come col cane normodotato abbiamo l'involuzione della relazione nei primi giorni perché a livello percettivo il cane sordo cieco tende a essere disorientato cioè io mi porto a casa un cane e sto facendo del gran bene vero ma dobbiamo considerare che lui ha ancora questo bene questa capacità di adattarsi ce l'ha ma questo bene e questo suo sentirsi protetto sereno e sicuro necessita di tempo certo quindi aspettiamoci di fronte a un'adozione di un cane sordo o di un cane cieco magari qualche notte insonne o qualche unulato qualche danno non solo di notte ma anche di giorno perché per quanto la loro capacità adattativa sia non me ne vergogno a dirlo superiore alla nostra a livello di tempo abbiamo hanno comunque anche loro la necessità di trovare una condizione ottimale per abbandonarsi a quella che è l'idea di sonno alla fine il sonno è un anestetico naturale noi ci addormentiamo e siamo vulnerabili in più ci addormentiamo in un mondo magari buio o in un mondo fatto di silenzio quindi siamo ancora più vulnerabili in questa vicinanza in questo incontro mettiamo in considerazione che la luna di miele noi l'avremo dopo all'inizio purtroppo o anche per fortuna secondo me perché è quello che poi spinge il proprietario a muoversi ad informarsi a chiedere eccetera eccetera all'inizio c'è un grande scossone una grande scossa di terremoto di assestamento una cosa che avevano anche riconosciuto determinate università in passato era che la capacità di adattamento e l'attenzione del proprietario nel comprendere la comunicazione del cane e verso il cane alla fine parlo sempre di sordo o cieco o sordo o cieco dà un risultato a livello di complicità definiamola così superiore rispetto a quella di un cane normodotato perché io devo andare a sperimentare alcuni aspetti che normalmente tendo a non sperimentare mettendomi in gioco in un certo modo quello che avviene è che nel nostro percorso partendo nonostante da un gap inferiore nel percorso riesco ad ottenere dei risultati qualitativamente uguali se non superiori a quelli di un cane normodotato però questa non vuole essere presentata come una gara una scorsa ad ostacoli quello che dobbiamo capire allora è che visto che queste persone riescono a raggiungere questi risultati e parliamo di proprietari qualunque comuni perché si parla di un gruppo campione di proprietari che vivono con il loro cane perché non farlo anche con i cani normodotati perché non provare di nuovo a rimettersi in discussione in fondo l'abbiamo fatto nella storia dell'uomo l'abbiamo fatto diverse volte passavamo dall'addestramento passavamo dal cane che viveva in giardino nella cuccia e poi abbiamo avuto il coraggio di portarlo in casa l'abbiamo messo sul divano ma poi l'abbiamo abbiamo esercitato un controllo una volta che abbiamo esercitato il controllo abbiamo scoperto le patologie siamo entrati in un mondo fatto di patologie e di disturbi il mio invito è quello fermatela questa ruota fermatelo questo volano emotivo dove sembra che non si possa vivere senza il problema perché il problema ce l'abbiamo ma è nostro nella nostra testa ce lo creiamo molto spesso osserviamo ragioniamo ci fermiamo un attimo e proviamo a ricostruire assolutamente solo che siamo di solito molto spesso la società e la velocità della nostra società ci obbliga a scartare ad andare oltre questo sì quindi poverino poverino in quel caso è chi osserva perché non ha compreso fino in fondo la natura di quel cane e non ha compreso il fatto che quel cane può essere un insegnante di vita come qualunque altro cane che incontri io mi arrabbio molto di più quando mio figlio o mia figlia dicono stupido poverino piuttosto che una parolaccia che hanno sentito da suo papà mentre era al telefono chissà che cosa perché andare a denigrare se stesso l'altro la persona l'identità è la cosa peggiore che noi possiamo fare e quel poverino purtroppo non colpisce il cane per carità però colpisce comunque la coppia cioè la coppia è obbligata a giustificarsi di fronte a una parola e non diamo molto peso a questo la società dovrebbe cambiare da questo punto di vista ecco perché il transito poi è anche il lavoro in umana perché se riusciamo a cambiare la società partendo dalle insegnanti partendo dalle educatrici partendo dagli educatori cinofili perché un educatore cinofilo entra comunque nella società non lavora solo col cane lavora anche con la persona allora sì che alcune parole verranno bandite dal vocabolario ed è questo il mio obiettivo nel senso smettiamola di partire a priori con un giudizio che non ha nessun senso poverino e lui magari gli altri sensi viaggiano alla velocità della luce ed è più presente nel qui e ora di te che dici poverino poi tiri dritto e ti rimetti al telefono quella è corruzione il pensiero no? esatto alla fine tiri dritto parli al telefono non vedi niente sei arrivato in fondo alla via e ti chiedi magari dove sei perché hai messo giù la telefonata e finalmente apri gli occhi sai ti stai in qualche modo ti sei corrotto da solo e non ti vivi il bello e il poverino in un certo senso come dici tu è frutto alla fine di una superficialità degli schemi che quel cane ha quel problema allora è poverino io però penso i fatti miei non vado oltre rimane sempre nel non andare oltre ed è questo che è bellissimo che i proprietari che in base alle ricerche si sia visto che i proprietari insomma di cani che hanno delle disabilità siano stati obbligati a fare tu pensa se tutti lo facessero come dici tu guarda penso che le tue parole abbiano dato tantissima speranza anche a Veronica che ha scritto e Veronica la conosco personalmente il suo cane era anche nella c'era una foto anche nella sigla il mio cane ipovedente per un problema medico per un po' ha perso la vista poi risolto e lei si è subito adattata alla nuova situazione senza demoralizzarsi e Veronica sta facendo un lavorone perché diciamo che sicuramente ambisce la luna di miele di cui tu parli però all'inizio la fase iniziale è molto complessa ci vuole tanta pazienza tanta osservazione però insomma guarda a me quando quando mi fanno cioè sento queste affermazioni o mi fanno delle domande del tipo ma perché non riesci ad adattarsi ma troveremo mai io penso sempre no? per fare un esempio banale però è molto chiaro allora quando tu ti innamori nella fase dell'innamoramento hai razionalmente le farfalle nello stomaco quindi dici sono innamorato perché tutto il mio corpo mi dice che sono innamorato non penso a lei non penso non penso ad altro vorrei correre da lei vorrei vederla eccetera eccetera poi quando arrivi al punto magari come noi che siamo sposati arrivi al punto di promettere di amore per sempre è abbastanza irrazionale come promessa cioè per sempre non esiste e poi chi mi dà la garanzia di e uno dice sulla costruzione di quella questo per spiegare che sulla costruzione di quel primo periodo iniziale di difficoltà noi possiamo fare una promessa irrazionale al nostro cane cioè superate quelle difficoltà vi garantisco che quello che arriva dopo è solo la parte più bella e essenziale della relazione è solo quello è tutta in discesa ed è tutto un piacere a patto ripeto che noi abbiamo voglia di vivere veramente quella relazione e questo vuol dire anche avere il coraggio di mettersi in gioco non per forza con un istruttore ma di mettersi in gioco con i propri cani sperimentarsi lasciarlo libero fargli incontrare altri cani con le dovute difficoltà del caso ma posso pensare di seminare per una settimana 15 giorni anche 6 mesi ma poi se penso che il mio cane può vivere 13, 15, 17 anni perché non sacrificare quei 6 mesi il nome di una vita spesa insieme perché poi il resto della vita è veramente spesa insieme e posso godere il mio cane ovunque io andavo ovunque con Tabata ovunque mi ricordo che mi fermavo a dormire negli autogrill quando tornavo facevo viaggi lunghi se ero troppo stanco dicevo ho dei figli a casa è meglio che mi fermo a dormire da dietro facevo saltare davanti Tabata sul sedile di destra abbassavo il finestrino e mi mettevo a dormire e lei osservava in autogrill chi si avvicinava se qualcuno toccava la macchina eccetera eccetera abbagliavo ringhiavo meglio dell'antifurto e tanti mi dicevano ma come fai a dormire così sereno prova a infilare dentro una mano e poi ne parliamo questa cosa non glielo ho mai insegnata è qualcosa che sostanzialmente il cane sente e acquisisce perché facente parte di come reale membro facente parte di un gruppo e questo gruppo ha un suo ruolo il ruolo non tiene conto della disabilità non è che lui si presenta la mattina scusate a timbrare il cartellino e dice io sono diversamente abile quindi me ne vado in portineria si mette in gioco come qualunque altro animale come qualunque altro cane e riesce con più tempo riesce ad ottenere gli stessi risultati la cosa bella con strade alternative differenti questa è la cosa bella certo e noi dovremmo imparare dovremmo imparare ogni tanto io non so se voi riuscite a sentire bene Luca ogni tanto da me si interrompe l'immagine datemi un feedback ora ti rivedo Luca perfetto ok allora continuano ovviamente ad arrivare tanti commenti tante domande poi andiamo avanti anche con qualche altra curiosità che ti volevo chiedere ti volevo mandare questo messaggio scusa copri un po' lo schermo ma è importante mandarlo un messaggio di Emanuela che scrive quando il mio cane ha perso la vista da un occhio non mi vergogno di dire che ero disperata non me ne facevo una ragione arrivando a pensare che potesse in qualche modo essere colpa mia col passare del tempo e con l'aiuto di persone vabbè ha capito che al mio cane il mondo non era cambiato anzi posso affermare senza dubbio alcuno che a volte ci vede meglio lui con uno che io con due soprattutto le lucertole è stata da buon predatore sì soprattutto le lucertole la loro vista la loro vista è differente dalla nostra noi abbiamo un quadro un quadro di insieme fatto di piccoli dettagli e particolarità e rielaborandole attraverso la vista non siamo in grado di mettere a fuoco contemporaneamente tutti quei dettagli loro lavorano secondo un principio che viene definito la figura sfondo hanno uno sfondo immobile fermo e in uno sfondo fermo immobile tutti i dettagli che si muovono catturano il loro organo di senso catturano la vista e gli permettono di estrapolare da uno sfondo molto ricco quel determinato dettaglio anche qui è come se che ne so noi guardassimo un Van Gogh e ci chiedessimo qual è la pennellata che ha dato prima il maestro qual è che ha dato dopo che colore ha usato loro guardando quel Van Gogh non vedono tutto il quadro o meglio non danno importanza a tutto il quadro e sono in grado di definire qual è la pennellata che è stata data prima con più energia o con minore energia sono due modi differenti di vedere molto spesso e qui dico non c'è un meglio o un peggio molto spesso noi siamo in dovere di dire al cane che si sta sbagliando nel senso vede una cosa viene tratto un inganno perché quella cosa è in movimento ed è entrata nel suo campo visivo e comincia a tirare ad abbagliare o pensa di partire lì è lecito dirgli ma che cavolo stai facendo io uso questi termini con i miei cani ma dove stai guardando ma che cavolo stai facendo lo tocco lo faccio girare con i gesti faccio vedere diciamo così il mio disappunto soprattutto con Balù questo perché perché il movimento della città non è adeguato al loro stile alla loro vista loro sono degli animali che sono stati selezionati in natura e la natura si muove in modo diverso quando siamo in natura in passeggiata non dobbiamo meravigliarci scusate del fatto che magari noi abbiamo qualcosa a due metri da noi e non lo vediamo e loro l'hanno già percepito sono i due aspetti che devono essere complementari noi possiamo essere delle buone guide in un ambiente che ci appartiene e dobbiamo essere in grado di affidarci completamente a loro in un ambiente che appartiene e che vivono maggiormente loro questo è certo assolutamente d'accordo a questo proposito ti faccio io una domanda quando si parla ai cani quando si parla o si pensa insomma ai cani diversamente abili solitamente appunto c'è come dicevamo la frase del poverino quindi ci si focalizza fondamentalmente solo sui limiti che questa disabilità può imporre alla loro vita però quando invece la loro percezione quindi parlando proprio di percezione qual è la potenzialità della percezione anche di un cane che può essere tecco o sordo sordo cieco che hanno i superpoteri diciamo allora sfatiamo sì sfatiamo subito un mito non è che non avendo un organo di senso gli altri diventano più potenti noi dobbiamo pensare che abbiamo una serie di connessioni neurologiche tutti abbiamo questo corredo non avendo una serie di informazioni che arrivano al cervello dall'orecchio o dalla vista queste connessioni non sono utilizzate ma prima che vengano atrofizzate soprattutto da chi è nato così vengono spostate per acuire la rielaborazione degli altri sensi quindi immaginiamo un cane sordo vede come un cane normodotato sente come un cane normodotato ma dietro ha una capacità di rielaborazione maggiore perché sono maggiori le connessioni che vengono predisposte alla rielaborazione di quei segnali è un po' come parlare un computer cioè se io ho tante finestre aperte lui sta lavorando su tante finestre sarà più lento ecco un computer con tante finestre aperte è il soggetto con tutti gli organi di senso funzionanti perché vi è un dialogo fra queste finestre cioè l'occhio vede una cosa ma poi chiede all'orecchio se quella cosa che ha visto ha una corrispondenza o chiede al naso se vi è una corrispondenza e via dicendo non è che le informazioni sensoriali sono buttate lì e sono fini a se stesse vi è un continuo scambio e vi è un continuo dialogo per arrivare a quella che è la sua verità la nostra verità nel senso arrivare a capire il contesto a capire la situazione nel caso del cane sordo o cieco anche se la finestra sensoriale non è utilizzata parzialmente meglio che sia completamente non utilizzata piuttosto che parzialmente quando non è utilizzata vi è una rielaborazione maggiore da parte degli altri sensi ma sentono e vedono o annusano nello stesso modo in cui lo fanno gli altri cani possono essere definiamola così più deduttivi perché dedicano più attenzione agli altri sensi ma non ci sono supereroi la formazione la conformazione anatomica è quella è il potenziale dell'organo di senso è quello c'è anche il fatto che però ha più memoria vuota da utilizzare sugli altri sensi in più dobbiamo pensare che sentire è troppo volgare dire che noi sentiamo con le orecchie o che il cane sente con le orecchie il cane sente e si fa un'immagine secondo quella che viene definita la percezione aptica cioè noi raccogliamo per immagini non raccogliamo noi e il cane raccogliamo per immagini quindi il cane si fa un'idea di quello che sta guardando arricchendolo di dettagli attraverso l'olfatto il gusto e la vista è vero che gli manca il suono ma poco conta riesce comunque a inserire tutti quei dettagli che gli danno un quadro preciso una fotografia un'istantanea precisa di quello che sta guardando una cosa può essere contro questo processo la velocità avrete notato che soprattutto chi ha che ha un cane sordo un cane cieco che hanno una forma di apprendimento latente sembra che imparino 3-4 passi dopo sembra che capiscano 3-4 passi dopo questo è vero perché hanno una quantità di informazioni da mettere insieme importante quindi hanno una forma di apprendimento latente magari oggi mi dedico al cane e sto cercando di insegnargli un qualcosa e mi accorgo che non ne tiro fuori un ragno dal buco domani mi sveglio e il cane sembra che l'abbia imparata da solo o studiata di notte la stava studiando aveva bisogno di rielaborarla e poi l'ha messa in pratica come strategia e qui diventa importante un altro aspetto questa rielaborazione avviene durante il sonno quindi il sonno di un cane diversamente abile è uno degli ambiti più importanti da controllare da sorvegliare da tutelare perché oltre a tutti i vantaggi che ci possono essere come nel cane normodotato abbiamo un'importante rielaborazione che deve essere mandata a definizione altrimenti se viene disturbato frequentemente nel sonno il rischio che stenda un testo senza le vocali senza le consonanti senza la punteggiatura quindi diventa incomprensibile anche anche per lui ma sostanzialmente a livello percettivo il cane è lo stesso sono i comportamenti che noi osserviamo e giudichiamo che sono differenti perché nella necessità di andarsi a creare un quadro fatto di ricchi dettagli molto spesso ha bisogno di muoversi di più rispetto a un cane normodotato o di fare dei movimenti che apparentemente per noi sono inutili ma se quei movimenti vengono fatti da quel soggetto al momento per lui sono utili solo che noi nella nostra valutazione sommaria veloce tendiamo magari a definirli comportamenti stereotipati comportamenti ossessivi eccetera eccetera difficilmente nelle prime uscite per fare un esempio difficilmente nelle prime uscite al guizzaglio con un cane sordo o ancora di più con un cane cieco non lo vedremo girare ma lo vedremo andare dritto noi dobbiamo pensare che il cane nasce in natura e in natura linee non ce n'è le abbiamo costruite noi con i muretti le strade le recinzioni e quant'altro quindi la funzione una delle funzioni vitali è quella di girare su se stesso per avere un quadro maggiore della situazione per capire quanto spazio ha e per capire dove sono gli ostacoli in più un cane cieco in particolare girando su se stesso non offre la fronte e la testa ma offre la spalla quindi se c'è un ostacolo non lo prendo con la testa ma lo prendo con la spalla prendendolo con la spalla mi faccio meno male sono tutte strategie che se noi impariamo a conoscere per il cane sono utili e alla fine quando si renderà conto che non sono più così indispensabili sarà lui stesso ad abbandonarle e noi saremo andati a compensare quella mancanza guidandolo correttamente al guinzaglio con la voce o con i gesti e quant'altro ma all'inizio non possiamo pretendere che quel cane si comporti come noi crediamo si possa comportare un cane mediamente perché non è nella media dei cani uno perché ogni soggetto è veramente a sé e è un individuo sestante e quindi in qualche modo dobbiamo imparare ad osservare quello che è il suo comportamento e trarne le deduzioni che ci possono servire per capire dove il cane può aver bisogno di noi però non partendo a priori prima è l'osservazione la parte importante certo c'è una domanda Luca una domanda che chiede il fatto che entroiettino le informazioni nel sonno è valido per tutti anche per gli umani assolutamente sì dobbiamo pensare che c'è una ricerca dell'università di Napoli che dimostra che i bambini ciechi sognano per immagini prendo i bambini perché è orientata sui bambini ma poco contro quindi un cieco si introietta rielabora e si costruisce un'immagine la percezione attica è quella quell'ambito di ricerca percettivo che poi è stato estrapolato dal commercio ed è quello che vi frega quando voi comprate allungate la mano sullo scaffale del supermercato e prendete quel prodotto che poi tornati a casa vi rendete conto che non vi serviva neanche cioè quello colpisce la vostra percezione perché è stato strutturato per forma colore dimensione in un modo unico che è fatto non tanto per contenere il prodotto che c'è dentro ma per vendere attraverso la confezione poi viene messo dove? all'altezza degli occhi fateci caso camminando sugli scaffali che voi troverete sempre non faccio nomi perché non voglio fare pubblicità a nessuno ma per esempio a livello di pasta voi troverete sempre la pasta delle aziende più grandi alla vostra altezza all'altezza degli occhi non la troverete mai nell'ultimo piano dello scaffale perché per andare nell'ultimo piano dello scaffale ci vuole un'idea di consapevolezza differente quindi cosa succede? succede che a livello di percezione aptica noi rielaboriamo tutte le nostre esperienze secondo un codice personale nostro che diventano i sogni e le andiamo a incasellare codice personale nostro perché ognuno di noi sogna la sua realtà non sogna non sogna tutti uguale possiamo fare la stessa esperienza ma nella notte successiva io e te abbiamo due sogni completamente diversi questi sogni sono parte del nostro linguaggio irrazionale che ci porta a non utilizzare la logica ma utilizzare diciamo così le motivazioni gli istinti per muoverci velocemente all'interno di uno spazio muoverci non vuol dire sempre solo correre ma attivare delle funzioni di reazione spalancare gli occhi dizzare le orecchie allungare il naso e sentire un odore eccetera eccetera e questo succede anche e soprattutto ai soggetti che hanno una diversità parlando di grazie per aver risposto alla domanda di Michela quando di percezione mi ha colpito tanto quello che hai detto stasera ma anche quello che ci siamo sentiti nei giorni scorsi questa fotografia di cui tu parli è ricca il cane insomma questa fotografia proprio percettiva che è arricchita da tutti i sensi e mi ha fatto riflettere tanto quello che dicevi la contrapposizione tra come percepisce il cane e da come percepiamo noi che è anche la differenza e ciò che questo comporta all'interno della relazione col cane questo diverso modo di percepire la consapevolezza sì mi viene in mente l'esempio più classico non voglio paragonare l'intelligenza del cane a questo strumento che utilizziamo quotidianamente ma per dare più un'idea di parallelismo mi viene in mente il navigatore il navigatore è una mappa cognitiva la mappa cognitiva ha delle caratteristiche la posizione attuale si lega alla posizione precedente e si lega alla posizione successiva altrimenti se noi cambiamo drasticamente rotta cambiamo direzione il navigatore che fa ricalcolo 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 bene nella testa del cane in questa rappresentazione succede proprio questo cioè i passi che ho fatto gli odori che ho sentito si legano al punto dove sono adesso mi devi dare il tempo di comprendere che cosa ho davanti se no io devo tornare a ricalcolare e allora rallento io che sono alla guida quando il navigatore ricalcola non so dove devo andare me la prendo più comoda così aspetto che mi dia la risposta anche il cane fa la stessa cosa a livello cinetico rallenta e dice ok dammi il tempo di ricalcolare perché mi hai cambiato rotta io pensavo di andare dall'altra parte una volta che questo avviene diventa tutto più semplice tutto più 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 naturale ecco diciamo così meglio loro leggono noi stessi di quanto non riusciamo a farlo noi con noi stessi non dobbiamo essere troppo cattivi con noi però no vogliamoci bene no loro loro ci leggono in un modo noi ci leggiamo in un altro sicuramente loro sono rimasti più naturali ok sono rimasti no naturali non è la parola giusta sono rimasti più animali dove la matrice è anima cioè sono rimasti più loro stessi no molto spesso non ci pensa ma animale è composto da anima quindi c'è la matrice anima noi siamo stati snaturalizzati noi siamo snaturalizzati assolutamente se solo guardo le due immagini tu dietro hai una bellissima tenda verde io ho i faldoni dell'ufficio le varie cose della società il mangime lo scarico il carico ecco questo non è io quando mi dicono cosa fai non lo so a volte faccio segretario a volte faccio il contadino non lo so però questa non è parte del mio sogno va fatta per carità però quando sono qui nel senso qui a compilare faldoni e cose non sono me stesso assolutamente quando sono là fuori in mezzo al fango e la pioggia di questi giorni mi sento me stesso noi se noi abbiamo questa capacità allora noi restiamo sulla loro stessa lettura sul loro stesso piano se noi cominciamo a dire oggi ciccio facciamo un giro corto perché piove c'è l'erba bagnata e poi ci bagniamo tutti eccetera eccetera noi perdiamo questa parte di anima diciamo così e ci rinunciamo in nome di un comfort che in verità invece che regalarci qualcosa ci toglie qualcosa assolutamente l'animale ci trascina al di là di questo finto comfort e ci porta fuori a sentire questo è perché quando noi facciamo una bella passeggiata con il cane non siamo stanchi perché abbiamo camminato ma se ci siamo dedicati a lui siamo stanchi perché abbiamo attivato tutti i sensi e abbiamo lasciato il cellulare a casa capisci? è una stanchezza di tipo diverso ma è appagante e in questo essere appagante ci rende animali ci rende veramente uomini ok? non ci rende ingegnere dottore professore e quant'altro quello ci appartiene ma è un altro ambito io dico sempre a una persona abbastanza importante che ha lavorato con me a Novara quando mi chiamano mi dice Luca anche stasera nel traffico devo tornare da Parma non ce la faccio più ok facciamo una bella cosa rallenta mettiti in prima corsia ascoltami bene arrivi a casa saluta la moglie prepara un cartello saluta la moglie glielo dai dicendo ho bisogno di un po' di spazio perché loro avevano un problema di coppia ho bisogno di un po' di spazio prendi prendi il guinzaglio del cane e ve ne andate fuori è buio e chi se ne frega buio segui lui qual è il problema? si fa mezz'ora tre quarti d'ora di uscita rientra mi scrive mi dice grazie mia moglie ha detto che ho ritrovato il sorriso grazie ma non è merito mio l'hai ritrovato tu e al massimo giro e ringrazia il cane la forzatura della giornata l'impegno l'imprevisto l'animale può essere il vero terapeuta ok? perché arriva a comprendere ancora prima che noi identifichiamo il bisogno il malessere e il bisogno però non è suo è nostro avete mai notato quando per esempio rientriamo a casa una sera e il cane dorme e tu dici cavo mi tocca svegliarlo per portarlo fuori rientriamo a casa un'altra sera più agitati lo stesso cane ci salta addosso ecco chissà che problema ha sto cane e guarda adesso mi sporca tutto eccetera eccetera ma sei sicuri che il problema ce l'ha il cane e non ce l'hai tu che rientri a casa che sei isterico è questo quello che noi ci dovremmo domandare ma non siamo non sono né meglio loro né meglio noi noi siamo sovrastati da mille problemi perplessità e poi possiamo discutere se sono realmente importanti o no loro sono ancora animali rimangono puliti nella loro relazione a fatto che noi riusciamo a lasciarli così li teniamo così ecco più a contatto con loro la loro natura portano anche noi effettivamente questo lo riscontriamo tutti riescono a riportarci a contatto con la realtà alla fine questo si parla di questo credo con la realtà Luca invece parlando di comunicazione quanto può la nostra comunicazione incidere nella relazione con con un cane soprattutto con un cane anche è diversamente abile allora a livello di comunicazione abbiamo una una parolina tecnica che purtroppo è un po' il demone quello che viene chiamato il doppio legame cioè molto spesso nella nostra comunicazione non siamo coerenti fra il pensiero primo e l'agito l'azione il cane questo lo vede cioè noi ci avviciniamo al cane con un'intenzione e ne dichiariamo un'altra con la voce o con i gesti soprattutto con un cane sordo che diventa virtuoso nel codificare i nostri gesti costruire un vocabolario con noi o noi siamo coerenti con il nostro pensiero e il nostro stato d'animo oppure avremo sempre un cane che chiede e prende una distanza fino a quando noi non troviamo coerenza nel trovare coerenza diventa difficile perché se io lascio libero un cane sordo mi hanno detto che non mi devo arrabbiare o spaventare perché si è allontanato così tanto mi agito lo richiamo lui arriva quando vede la mia faccia perché ci osservano e vede che sono incarognito imbruttito perché è stato lontano perché ho preso paura quello che succede è che rallenta e si ferma un metro nel fermarsi un metro ci mette alla prova ancora una volta in quella che è la nostra comunicazione o ritrovi la coerenza fra l'imbruttito e quello che volevi dire oppure io non ho quel clima di fiducia indispensabile per avvicinarmi e farmi agganciare allora io molto spesso al mio proprietario dico se sei arrabbiato o preoccupato non devi nasconderlo fallo vedere il cane non è stupido l'ha già capito ma se sei coerente sei vero allora di una persona vera ci si può fidare laddove invece si instaura un doppio legame laddove invece vuoi dimostrare una cosa ma ne stai provando un'altra il cane è timoroso e titubante perché non so di quale parte della comunicazione posso fidarmi e mi devo fidare quindi c'è proprio non un conflitto però una mancanza di coerenza tante volte tra ciò che noi magari diciamo anche al nostro cane quello che è il suo percepito quindi questo cosa crea nel cane confusione intanto crea una confusione in più dobbiamo pensare che noi in qualche modo rappresentiamo la sua base sicura quindi il porto sicuro dove arrivare dove entrare dove stare dove allinearsi dove ricevere dove dare e se questo porto sicuro è in costruzione o è ceduto o è ceduta la banchina come posso avvicinarmi ormeggiarmi alla banchina se ne è venuta giù metà questa incoerenza è un grosso scoglio non un male però un grosso scoglio della relazione perché attenzione questa incoerenza non è nel cane è nella persona e molto spesso è più difficile correggere l'incoerenza della persona che nel cane la legniamo molto non l'incoerenza a volte facciamo buon viso a cattivo gioco a volte salutiamo quando non vorremmo salutare questo per un concetto di civiltà però dobbiamo imparare ad essere veri con il nostro cane a me scappa da ridere perché il cavallo il mio cavallo blind è un cavallo cieco quando io entro nel tondino lui mi sente subito e io la prima cosa che dico proprio per essere spontaneo ma a me stessa a me stesso la dico non al cavallo oh ascolta ma non mi vedi che ogni volta mi dai le testate sapendo che è cieco ok però mi serve per entrare qui nel pensiero di trattarlo come qualunque altro cavallo di viverlo come qualunque altro cavallo e ancora adesso dopo tanti anni questo sforzo diciamo così questo esercizio lo faccio per ricordarmi di essere vero con me stesso sostanzialmente quello perché? perché poi ti devi allenare o sei obbligato nella quotidianità a dire certe cose a non dirne altre a mediare a stare attento e insomma in qualche modo la tua comunicazione è un po' così è un po' spostata rispetto alla verità che vorresti dire e l'animale questa comunicazione la sente mi viene in mente vi sarà capitato anche a voi quando un certo stai avendo un dialogo sei in casa eccetera eccetera ad un certo punto non dico per forza i toni ma anche il modo di parlare cambia il cane arriva e ti appoggia la testa sulla gamba arriva e cerca di mettere le due zampe sulla gamba o arriva e ti spinge beh questo perché? perché sostanzialmente si è accorto che la comunicazione sta andando in un'altra direzione e in quanto presente nella stanza è partecipe a quella comunicazione anche se non è protagonista loro passano soprattutto i cani sordi passano il tempo ad osservarci osservandoci si fanno un'idea di noi e non è un'idea di giusto o sbagliato si fanno un'idea di vero in quel momento o contraddittorio in quel momento quando siamo contraddittori il cane tende a mettere in atto una serie di comportamenti che ci correggono e ci aiutano a tornare a essere veri perché non fanno cose eclatanti ma magari in un'azione tipo nella passeggiata al guizzaglio siamo usciti per essere tranquilli la prima parte di passeggiata è andata bene qualcosa ci sta rovinando la passeggiata noi cominciamo a legarci il guizzaglio due o tre giri intorno alla mano lo tiriamo un po' di più il cane che fa si gira prende in bocca il guizzaglio e comincia a tirarci dall'altra parte ma ci sta scuotendo cerca di farci capire poi noi se siamo bravi allora allentiamo questa resistenza ci fermiamo e riflettiamo se invece proiettiamo su di lui questo comportamento lo codifichiamo come una proiezione su di lui allora a quel punto noi torneremo a casa incavolati neri stanchi e arrabbiati ma il cane ci viene in aiuto ci osserva e ci viene in aiuto si tratta di comprenderlo fino in fondo è fortissima veramente tutto ciò che hai detto riguardo a quanto può aiutare in umana diciamo cioè il parallelo è veramente forte questa cosa è veramente forte quanto penso che sia la base insomma anche di tutto il progetto alla fine solo che le persone tante volte tutti mi ci metto dentro anch'io non ci rendiamo conto di quanto di quanto alla fine possa aiutare noi e di quanto si possa andare avanti migliorare se ci fermiamo se ci metto in discussione se iniziamo a accogliere davvero tutte queste opportunità che ci dà questo tipo di relazione mi scappa da ridere vedi quando non so se succede è successo solo nelle grandi città o anche nei piccoli centri mi scappa da ridere quando tutti si lamentavano che avevamo 200 metri di distanza da casa per portare a passeggio il cane io so di colleghi che lavorano operativamente attivamente e che fanno una fatica bestiale per insegnare ai proprietari a star fuori con il loro cane è arrivato il covid e tutti hanno detto ma solo 200 metri ma non è possibile ma dove vado capisci è assurdo è assurdo questa è l'incongruenza dell'essere umano sostanzialmente o facciamo pace col cervello o avremo difficoltà a stare nel regno animale avremo veramente difficoltà ma perché dobbiamo far pace a noi nella vita anche non solo nel regno animale perché alla fine questo ha delle sfaccettature dei riflessi nelle relazioni umane anche che abbiamo con gli altri è emerso da tutto ciò che ci hai raccontato stasera però Luca abbiamo parlato alla fine diciamo che la base di quanto ovviamente è stato il concetto di diversità di questa serata che tante volte se ne parla se ne parla tanto se ne sente parlare sembra un concetto così astratto così lontano da noi invece alla fine la nostra vita è impregnata ed è un grande valore la diversità raccontaci tu qualcosa non c'è un valore sì non c'è un valore che sia materiale che sia misurabile o pesabile si parla di amore si parla di diversità si parla di virtù forse questa è la peculiarità del valore impotenza se io penso quando piantiamo un semino nella terra impotenza può diventare una pianta in verità io non ho la certezza che diventi una pianta in qualche modo nella diversità c'è questo cioè chi adotta un cane diversamente abile ha quella capacità di osservare in potenza ciò che è in materia in essere io vedo un cane mortificato tenuto lì nel box in canile o abbandonato perché scoperto sordo cieco io penso e lo continuerò a pensare per tutta la vita perché sono veramente persone speciali che chi adotta un cane sordo o cieco in qualche modo è riuscito nella sua testa a ragionare sul potenziale del soggetto a livello di relazione e non lo spaventa quel potenziale quindi ha già spostato il concetto di diversità o meglio ha già spostato il concetto di giudizio poi sono persone magari che nella loro vita hanno dovuto affrontare diverse fatiche non si sono fatte cogliere impreparate non si sono mortificate non si sono abbattute semplicemente hanno trovato delle strategie per conoscere per conoscersi per riscoprirsi e per andare avanti mi viene in mente una coppia con un cane cieco un un cocker cieco il cocker girava in giardino e il marito rientra a casa dal lavoro con la macchina apre il cancello elettronico ed entra nel giardino entrando nel giardino la moglie dalla finestra della villetta gli urla attento al cane e lui frena di colpo lui è sicuro perché aveva le sonde sulla macchina è sicuro di non aver toccato il cane la moglie è sicura che il cane non fosse stato toccato dal paraurti investito dal paraurti della macchina il cane ha preso uno spavento tale per cui si era bloccato pietrificato in quel momento e il treno posteriore praticamente lo trascinava io li ho conosciuti dopo questo episodio li ho conosciuti circa un anno e mezzo dopo quando loro sono andati a fare tutti gli esami clinici del caso per capire cosa stava succedendo al treno posteriore di questo cane quando sono arrivato e la signora mi ha dato un faldone che sarebbe stato alto così di ricerche mediche che sinceramente non sapevo leggere non avevo idea e gli ho detto signora li metta via perché solo all'impetto di vedere questo volume mi spaventa la cosa che mi è venuta in mente è che la proiezione della signora sull'insicurezza del marito quando era alla guida l'ha trasmessa al cane cioè quell'urlo ha pietrificato il cane ancora prima che il paraurti lo toccasse quello che io ho fatto è prendere la signora prendere il cane e metterlo in piscina loro con l'elemento acqua riuscivano a sciogliersi e piano piano riuscivano a ritornare a essere loro stessi ad abbandonarsi a fidarsi qualche settimana dopo la signora mi ha confessato che non si fidava assolutamente della gestione del marito del cane come il marito gestiva il cane e lì era sostanzialmente il punto cioè sul cane sulla diversità si era andati a proiettare un'insicurezza di coppia perché questo molto spesso può succedere nonostante ci siano tantissime belle adozioni molto spesso sulla diversità si proiettano le nostre paure e le nostre insicurezze se questo accade si grava un cane di una percezione e di una fatica ancora ulteriore nel momento in cui si decide di prendere un cane e già prendendo un cane normodotato stiamo parlando di diversità perché è una specie diversa dalla nostra noi dovremmo essere completamente scevri da qualunque tipo di paura e di proiezione prendere il cane per quello che è altrimenti su quel soggetto ricadranno tutte le nostre insicurezze e tutte le nostre paure quello da lì a sei mesi otto mesi un anno verrà definito problema comportamentale ma il soggetto non nasce a patto che non vi siano veramente gravi problematiche di tipo genetico non nasce con il problema instillato il problema è frutto di una serie di eventi di situazioni e di ambienti che si vengono a creare capisci che lavorando con la percezione a livello di percezione non posso solo pensare di entrare in un appartamento di entrare in una sistemica e osservare il cane il cane non è altro che una cartina attorno al sole di quello che si sta respirando in quell'ambiente in quella situazione in quel momento e allora dobbiamo imparare parlo soprattutto ai professionisti ad allargare la visione e a spostare il focus solo dal cane perché il cane è il risultato di come le persone si parlano fra loro di come le persone parlano con lui di quanto sono veloci di quanto sono naturali di quanto sono poco naturali di quanto sono abitudinari di quanto sono isterici eccetera eccetera è troppo facile prendere delle definizioni inumana e riportarle sul cane troppo facile perché non gli appartengono questo è il concetto della diversità hai anche adesso ecco hai veramente toccato spiegandoci il concetto di diversità un altro argomento molto importante che è quello appunto delle paure e delle fobie che poi per quanto riguarda i proprietari di cani che sono diversamente abili magari tante volte sono anche esponenzialmente maggiori rispetto a quelle che possono avere dei proprietari di cani che hanno tutte le caratteristiche normali diciamo c'era un commento importante a riguardo di Valentina che ha un cane che è cieco ha un occhio che scrive scritti a parte per me è stato molto difficile uscire dalla logica insomma del poverino insomma tutto ciò di cui abbiamo parlato prima perché la disabilità portava anche molte paure quasi fobie quindi anche riuscire nel tempo a come dicevi tu sperimenta prova a liberarlo fai anche dei tentativi insomma tante volte le paure le fobie vanno un po' a sopraffare sì non ho capito bene dalla domanda dall'affermazione di chi fossero queste paure o fobie se parliamo delle paure o fobie del cane forse è perché non abbiamo tenuto in considerazione che il periodo di esattamento era più lungo di quello che noi avessimo previsto guarisce prima la cicatrice di quello che è la percezione di noi stessi la percezione di noi stessi ha bisogno di molto più tempo prima di essere riformulata da parte del cane la cicatrice esterna guarisce molto prima io ricordo un pomeriggio dopo l'amputazione purtroppo della zampa di Balou perché lui aveva quattro zampe poi è diventato è diventato tripode lo lasciavo libero di girare e lo sorvegliavo a distanza e lo lasciavo grazie Valentina lo lasciavo libero di girare e gli davo la possibilità di esplorare quando era stanco perché si reggeva su una sola zampa posteriormente lo andavo a prendere e lo riaccompagnavo mettendo sotto un asciugamano lo riaccompagnavo in casa così giorno dopo giorno per circa sei otto mesi quindi un periodo lunghissimo aveva solo non è corretto non è giusto però aveva perso una zampa e si reggeva perfettamente i piedi faceva tutto e quanta e io ogni tanto mia moglie mi diceva ma come stava lui perché non lo guardi perché ha bisogno del suo spazio se io gli sto addosso in qualche modo per il tipo di relazione che noi abbiamo sembra che pretenda delle cose da lui una mattina gli faccio uscire esce anche lui poi mi porto in giardino a controllare se è tutto a posto e lo vedo che sta sperimentando il modo di saltare lo steccato del cavallo nell'asse più bassa si metteva dritto capiva che non riusciva a passare si metteva un po' storto eccetera a un certo punto prende l'aria in corsa e in diagonale salta perfettamente lo steccato una volta l'ha fatto ormai è sei anni mi sembra che lui sia Tripoli una sola volta in tutta la sua vita l'ha fatto ma non perché ha toccato probabilmente doveva dimostrare a se stesso che doveva essere capace questo tipo di attività questo lavoro va a lavorare contro le paure del singolo soggetto a patto che noi lasciamo il tempo perché lo spazio identitario ritorni in definizione se noi acceleriamo troppo il percorso il soggetto si troverà a scontrarsi contro le paure e l'insicurezza senza neanche mai sapere quali sono realmente le sue paure quindi si troverà a affrontare qualcosa di grosso che ancora non gli appartiene se noi ci pensiamo la reazione alla paura è veloce ma la rielaborazione della paura è un aspetto molto lungo la reazione alla paura è fisiologica ci serve per salvarci mi viene in mente una brusca frenata in autostrada il piede non so come faccio a mettere il piede sul freno però ce lo metto e riesco a fermarmi da lì in poi rielaborare quell'esperienza e capire dirsi a se stesso che ho avuto paura e che è giusto ci vuole del tempo tanto più che di solito accosto vado più piano me la prendo più comoda proprio perché a livello percettivo tutte le mie finestre sensoriali mi hanno detto sei arrivato al limite a livello razionale l'ho capito e rallento a livello inconscio ho bisogno di tempo per metabolizzarlo questo tempo non può essermi d'aiuto se di fianco ho uno che mi dice accelera fai accelera fai non mi aiuta a metabolizzare nel cane dobbiamo lasciare uno spazio di pertinenza di appartenenza che gli permetta di comprendere di sentire di rielaborare la paura sapendo che noi ci siamo perché ripeto Balù per esempio quando è uscito dallo steccato poi mi guardava io l'ho fatto rientrare dal cancelletto non ha più provato a saltare a lui era sufficiente questo e in questo lui mi ha aspettato diciamo così ed è importante secondo me anche sostenerli in questo superamento di questa fase di paura o di fobia però anche noi proprietari non avendo noi la paura che dato che magari c'è una mancanza possano farsi male possono non farcela tante volte c'è un coinvolgimento emotivo maggiore è vera questa cosa o è solo una leggenda tu hai visto i proprietari di questi cani e allora no non sono tutti così ci mancherebbe assolutamente diciamo che ciò che colma va a colmare la nostra paura in questo caso è la conoscenza e qui parlo di quell'aspetto di conoscenza non tanto dell'animale ma della difficoltà che potrebbe idealmente vivere l'animale ok andando a sempre di più a conoscere a guardare adesso abbiamo un sacco di mezzi per poterci informare ci rendiamo conto che non siamo soli nell'affrontare questo percorso ma ci sono un sacco di persone che prima di noi hanno adottato un cane e ci fanno vedere il bello di questo cane sordo cieco e se ce l'hanno fatta loro perché non ce la dobbiamo fare noi se tendiamo a chiuderci se tendiamo a isolarci se tendiamo a proiettare tutto sul cane inevitabilmente stiamo coltivando le nostre paure e queste paure poi il cane le sente quindi abbiamo immobilità abbiamo apatia abbiamo uno stato di vagotonia tutte situazioni che sono indotte dal attento fermo ti aiuto ti do da bere ti faccio ti rispo togliamo un'indipendenza che è giusto che il cane si guadagni anche sbagliando perché tutti abbiamo sbagliato mi stupisce l'altro giorno mio figlio si è stupito quando mi ha detto papà ma tu prima di finire le scuole non sei mai stato bocciato sì un anno è l'anno più bello della mia vita me lo ricorderò per sempre e lui mi guardava come per dire perché? cioè sei stato bocciato sì però lì ho imparato qualcosa che non potrei raccontare se non fossi stato bocciato ok quindi l'errore è parte del processo di evoluzione è parte del processo di cambiamento ed è parte del processo di apprendimento invece noi tendiamo a demonizzarlo l'errore perché poverino sbatte poverino si fa male eccetera eccetera è chiaro che se io ho un appartamento con delle scale aperte e un cane cieco lì non è errore lì è questione di sopravvivenza ok andrò a mettere in sicurezza la situazione ma nel sbagliare a girare e prendere il muro sul fianco sulla testa per una volta e quant'altro è quell'errore che magari uno dice poverino però ci sta e serve al cane per perfezionarsi per migliorare per evolvere in quello che è la mappatura dello spazio del territorio eccetera eccetera poi se vi è una continuità di errori allora lì c'è un problema a livello di proprio ecettivo di consapevolezza del proprio corpo da parte del cane e allora lì bisogna intervenire ma a priori pensare di togliere escludere l'errore vuol dire potare il processo di apprendimento del soggetto verissimo verissimo Luca adesso noi ti abbiamo trattenuto veramente tanto però volevo prima di salutarti chiederti un'ultima cosa in tutti questi anni avrai avuto sicuramente occasione di vedere tanti tanti casi tanti cani c'è qualche storia in particolare che ti ha colpito che ti ricordi che ti spesso che ci vuoi raccontare guarda la storia più bella mi è scesa la lacrimuccia prima è quella di Osso è un Riccardo è un amico ha scritto fra i commenti è un amico veterinario e Osso è il suo cane esatto e Osso è il suo cane un Jack bellissimo sono stati qua io li ho conosciuti in Toscana loro sono di Firenze ed erano io ero spaventato perché sono due professionisti molto seri che gestiscono uno studio medico uno studio veterinario e io ero spaventato al confronto con loro dicevo due contro uno cavoli qua non me la cavo più mi arrivano con un sacco di cose con un sacco di esami questo e quell'altro e invece quando li ho visti scendere dalla macchina ma soprattutto quando ho visto scendere il loro cane ho detto no non hai capito niente Luca vai cerca di andare a capire realmente chi sono queste persone e da lì abbiamo cominciato a chiacchierare passeggiare camminare e più lo facevamo più questo cane si mostrava nella sua bellezza era bello perché era bello ed è bello perché è veramente il biglietto da visita di questa coppia rappresenta il concetto di bellezza e la ricerca di bellezza diciamo così di verità all'interno della coppia poi conosciuti anche professionalmente devo dire che loro sono di un coerente e di un bello da far paura la vista di Osso è degenerata nel tempo loro sono venuti a trovarmi in fattoria e io ho avuto il piacere di portare Riccardo e Osso quella settimana che sono venuti a trovarmi all'interno di un centro residenziale dove c'era un bambino con una malformazione genetica molto importante se non viene seduto non riesce a stare seduto viene spostato viene imboccato eccetera eccetera vedere quel cane osservare il bambino e poi mettersi in atto mettersi a lavorare con questo bambino mi ha aperto il cuore e mi ha fatto capire quanto il cane se messo nelle condizioni giuste può veramente fare il miracolo oggi questo ragazzino grazie anche a Osso è un ragazzino che si alimenta autonomamente cioè prende il cucchiaio e riesce a mangiare da solo cosa che era impensabile per i professionisti del tempo abbiamo lavorato con Osso abbiamo lavorato con altri animali però sono certo che il vero cambiamento sia avvenuto con quel cane in quella consulenza il ragazzo si è messo in gioco in un modo unico questa 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 amicizia che c'è fra me Osso Riccardo fra noi tutti diciamo perché poi è diventata un'amicizia di famiglia con la tua moglie con mia moglie i figli e quant'altro mi ha aperto l'idea del quanto la diversità invece che creare distanza va a colmare e questa è una cosa molto importante cioè io spero che per qualunque stupidata abbia detto spero solo che questa sera la gente si ricordi questo cioè la diversità non crea differenza va a colmare quella differenza a patto che noi siamo in grado di identificarla di riconoscere speriamo sicuramente è un messaggio molto forte quello che arriva stasera e tutta la diretta è veramente molto molto speciale speriamo che apra la mente a tutti insomma però ti abbiamo veramente trattato tanto ti chiediamo soltanto un'ultima cosa se ci vuoi raccontare un ultimo tu hai un progetto editoriale in corso giusto a breve ci sarà un il terzo il terzo sì sì allora ti spiego stasera io sono sì sì stasera io sono due ore diciamo così un'ora e mezza quello che è che sono qui con voi però i figli qualcuno li ha messi a letto qualcuno ha preparato da mangiare eccetera eccetera allora mi sembrava giusto in qualche modo rendere rendere conto a tutte quelle persone ed in particolare a mia moglie che ruotano intorno alla mia vita e mi hanno dato la possibilità di perseguire il mio sogno il prossimo progetto editoriale parla ancora di animali ma parla del concetto dell'amore all'interno del regno animale e si chiamerà Occhi, Genitori e Figli il titolo il titolo del libro è questo sì ed è un dedicare sostanzialmente a tutte le persone ed in particolare a mia moglie che mi hanno reso che hanno fatto sì che questo sogno questo desiderio fosse possibile fosse realizzabile perché senza di loro non ci sarebbe senza il sostegno delle donne della famiglia è vero ma guarda non mi vergogno a dirlo ormai è un'età che posso riconoscerle queste cose non c'è nessun tipo di problema ma ci arriva meglio ma senti quando uscirà il libro si sa già qualcosa spero verso la metà del prossimo anno questo sì spero verso la metà del prossimo anno intanto se qualcuno vuole può comprare l'ultimo quello il viaggio del mago quello più che volentieri lo trovate su su Amazon facilmente anche vabbè semplicemente sordo per chi ancora non l'ha letto insomma è un libro tra l'altro interno di semplicemente sordo tu racconti delle storie di casi in particolare vita reale sì sì in tutti e due i libri il mio modo di scrivere è un po' uno stendere un diario diciamo così poi all'interno del diario ci vuole essere l'esperienza la conoscenza la condivisione eccetera eccetera però sostanzialmente parto dal diario io penso sempre che non si possa raccontare di cose che non si sono vissute io mi permetto semplicemente di raccontare quello che ho vissuto è per questo che tu arrivi tanto Luca perché c'è un'autenticità in ciò che racconti che deriva soltanto dall'esperienza vissuta se no non non arriverebbe così tanto ciò di cui parli e sono tematiche molto importanti molto forti quindi adesso ci sono veramente a me dispiace perché ogni volta tra l'altro ecco un messaggio da parte di Anna a tutti quanti purtroppo sono riusciti soltanto a far funzionare uno dei loro cellulari mandano saluti a tutti soprattutto un grazie a Luca è tanto dispiaciuta Anna ovviamente di non essere con noi stasera saluta a te e tutti i nostri ascoltatori più che altro a me dispiace non riuscire mai a mandare tutti i commenti anche a Anna perché arrivano sempre tante bellissime domande tanti commenti però poi i tempi si allungherebbero troppo quindi solitamente con Anna mandiamo i nostri indirizzi mail se volete comunque tenerli in contatto con noi ve li mandiamo sotto così li vedete scorrere però ancora più importante è sapere che Luca Scanavacca tramite la fattoria dei stemplici o semplicemente sordo potete contattarlo anche tramite Facebook tramite il suo sito internet che è bellissimo veramente vi invito a visitarlo e a leggere tutto ciò che ho scritto perché il progetto Mind Extension ha una potenzialità incredibile veramente quindi se avete tempo andate date uno sguardo Luca ovviamente è contattabile attraverso i suoi canali più che altro adesso io strutto il fatto che ci sia Luca ancora qui con noi anche per darvi l'appuntamento per il prossimo Dopocena Live che sarà la settimana prossima mia amica siamo stati compagni in abbiamo in Gia abbiamo una tua amica carissima anche per noi Elena amica tantissimo di Anna io l'ho conosciuta attraverso i Dopocena Live perché ha fatto da due dirette con noi bellissime nella prima abbiamo parlato del suo ultimo libro che parla appunto delle razze ma scritto con grande maestria veramente coinvolgente tante persone che ci seguono che anche io conosco l'hanno letto ho comprato sono entusiaste perché Elena ha una capacità di riuscire a raccontare delle cose molto specifiche in maniera molto semplice molto diretta veramente e ci ha fatto il dono di essere nuovamente con noi la settimana prossima non vi diciamo qual è l'argomento perché sarà veramente una sorpresa per tutti e quindi Luca che dire ti ringrazio a nome di Anna ringrazio tutti quanti hanno seguito questa serata così speciale e vi diamo la buonanotte e ci vediamo la settimana prossima grazie perché è una bellissima iniziativa complimenti grazie grazie mille davvero speriamo allora Luca di riaverti presto insomma noi io e Anna siamo molto mirate molto non ambiziose però abbiamo veramente grandi obiettivi quindi abbiamo già in cantiere qualcosa di molto bello da chiederti quindi speriamo di riaverti presto qui per le nostre dirette grazie e buonanotte ciao buonanotte